La sindrome di Sjögren è una patologia non particolarmente conosciuta, anche se diffusa. È una malattia autoimmune dagli effetti devastanti e invalidanti, causata da un'anomalia del sistema immunitario, i cui sintomi insorgono a livello delle ghiandole socrine, in particolare dell'occhio e della cavità orale. Attualmente non esiste una cura specifica, ma solo trattamenti terapeutici che possono migliorare lo stato di salute generale del paziente. Colpisce particolarmente le donne tra i 50 e i 70 anni, ma vi sono casi anche al di sotto di questa età. L'associazione Animas, l'associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjögren, dal 2005 si occupa di dare voce e visibilità a quella che viene considerata una malattia invisibile, non inserita nell'elenco delle malattie rare, non inserita nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza. Con l'impegno terapeutico tutto a carico del malato, che oggi sono ben oltre 16.000 casi. L'impegno della presidentessa dell'Animas, Lucia Marotta, è un accorato appello alla sensibilizzazione verso questa patologia per alimentare la ricerca e lo studio al fine di raggiungere una terapia adeguata e per migliorare la qualità di vita delle persone affette dalla sindrome di Sjögren. Il convegno, che si tiene oggi al Grand Hotel Salerno, celebra la quarta giornata mondiale della sindrome di Sjögren ed è un appuntamento importante del mondo scientifico, riunitosi per fare il punto della situazione nel campo degli studi scientifici e della ricerca e per fare una diagnosi il più velocemente possibile. A Lucia Marotta, presidentessa dell'Animas, chiediamo un punto della situazione e quali sono stati gli sviluppi e gli avanzamenti di stato dello studio e della ricerca sulla sindrome di Sjögren? Per quanto riguarda l'impegno associativo è stato veramente a 360 gradi. L'associazione sta svolgendo una sensibilizzazione, un'informazione a tappeto sia collaborando con i medici di medicina generale, che con le strutture ospedaliere, che con le università e non ultimo anche i farmacisti ospedalieri e quelli privati. Perché questa malattia ad oggi è ancora poco conosciuta e poi le problematiche che ne conseguono sono soprattutto legate alle criticità di una malattia rara orfana. Quindi il problema va affrontato veramente in sinergia con tutti i stakeholder, come si dice oggi. Cioè in realtà ognuno deve portare il suo contributo con le sue competenze perché ci sia la giusta attenzione nei confronti di queste persone che purtroppo vivono una situazione di disagio, di sofferenza e di isolamento dovuto proprio a queste carenze che ci sono sia a livello di presa in carico della persona con la malattia che e per quanto concerne anche le tutele, l'assistenza e poi la ricerca che porti un contributo poi a una terapia adeguata. Professoressa Taruscio, quando una malattia viene annoverata nel registro delle malattie rare? Per malattie rare si intende una patologia che colpisce gli esseri umani per l'appunto perché parliamo di questo. Colpiscono pochi cittadini, sono per definizione 5 cittadini su 10.000 nella popolazione comunitaria a livello della comunità europea e queste patologie possono essere estremamente diverse l'una dall'altra, possono colpire bambini, adulti, possono colpire tutte le età. Tutti gli organi possono essere anche localizzati a un singolo organo oppure diffuse. Sono patologie molto complesse di solito da diagnosticare e soprattutto da curare. Molte di queste si conoscono e sono circa 7.000 malattie diverse, molte altre non si conoscono ancora, non si sa neanche il nome, quindi parliamo di malattie sconosciute, non diagnosticate. Queste patologie vengono in Italia tutelate da un regolamento specifico che si chiama Regolamento per la istituzione della Rete Nazionale Malattie Rare. Sin dal 2001 infatti abbiamo una rete ad hoc alla quale i pazienti si possono rivolgere, ricevere la diagnosi e anche il trattamento. Quindi cosa raccogliamo all'interno del registro? Raccogliamo tutte quelle patologie, tutti i dati epidemiologici e clinici dei dati dei pazienti con una malattia che rientrano in un allegato specifico allegato diciamo a questo regolamento. Sfortunatamente non raccogliamo tutte le malattie del territorio nazionale o a livello internazionale perché per il momento questo registro è proprio tarato su questa raccolta dati. Ovviamente ci stiamo attrezzando per raccogliere tutte le altre patologie e quindi il rispetto di quello che è incluso in questo regolamento o non è incluso è importante perché nel registro includiamo soltanto quelle incluse nel regolamento. Questo non significa che le malattie rare in Italia non siano curate tutte, sono tutte curate, sono tutte attraverso il nostro sistema sanitario nazionale sottoposte ad un accettamento diagnostico, ad un trattamento e questione se si entra o non si entra nella rete delle malattie rare. Dottore Pandolfi, oggi si celebra la quarta giornata mondiale della sindrome di Sjogren e lei durante il suo intervento ha sottolineato innanzitutto l'importanza fondamentale della collaborazione fra i medici di medicina generale e i farmacisti e inoltre ha assunto un impegno importante con la presidente Marotta riguardo all'inserimento nel prossimo programma di educazione continua in medicina sui temi della sindrome di Sjogren. A prima parte la domanda, ritengo che la sinergia tra medico di medicina generale e farmacista sia importante per la presa in carico del paziente, soprattutto per la gestione del paziente nella patologia cronica come sicuramente la sindrome di Sjogren. Per far conoscere meglio anche a noi farmacisti della sindrome di Sjogren la dottoressa Marotta mi chiedeva di un maggiore approfondimento tra la categoria e ho preso sicuramente l'impegno di organizzare un corso ECM, quelli che sono i corsi di aggiornamento continuo obbligatori come previsti dalla normativa anche su questo argomento, in modo che il farmacista territoriale, il farmacista della farmacia privata, della farmacia comunale, possa essere di supporto e di aiuto al paziente che è affetto da questa patologia, considerato che il farmacista per la sua tipologia è capillare sul territorio e quindi magari potrà essere di aiuto al paziente anche nei piccoli comuni dove non c'è un centro di riferimento vicino. Uno dei problemi importanti che lamentano i pazienti affetti da questa patologia è la quasi totalità delle spese farmaceutiche, molti farmaci sono a carico del paziente. In questo momento allo stato attuale sono a carico del paziente, il parafarmaco o quei dispositivi medici per cui non è concessa la rimborsabilità da parte del servizio natale nazionale. Come malattia rara penso che alcune di questi farmaci o di questi parafarmaci potrebbero rientrare a carico del servizio natale nazionale. È un problema di normativa però, mi diceva la dottoressa Marotta, il suo impegno affinché questa malattia venga riconosciuta come malattia rara ci è sempre stato, ci continua ad essere quindi speriamo che anche questa patologia possa rientrare nelle malattie rare e quindi avere un supporto anche da parte del servizio natale nazionale. Grazie a tutti!